sta per arrivare la santa pasqua e quindi come ogni anno è dopo comprare le uova pasquali un cioccolato nocciolate della lind un kinderino due transformer e un lind fondente signori questi tre non le aprirò perché sono destinate a dei bambini ovviamente invece queste due sono destinate a una bambina me stessa medesima quindi mi misco di una forbice sperando che quest'anno le uva si aprano al più presto possibile eccoci qua cominciamo dal più grande con la forbice tagliamo con molta calma come potete prendere il ciocchettino è aperto vai occhio ed ecco che l'ovetto è aperto perlomeno una carta che bella questa carta tutta color oro che buon odore di cioccolata speriamo che si apra come ogni anno si è aperto l'assaggio d'obbligo cosa ci sarà di buono non voglio girare anche perché ho chiuso anche di qua speriamo che qualcosa di buono ci sarà veramente bello tagliamo sempre con la forbice veramente carino che cos'è bello è davvero un bel bracciale devo dire con un bel cuore osservate osservate tutto lavorato vedete acciaio lucido caruccio vai quest'anno mi ha dato di lusso bel regalino ora passiamo a piccolino intanto devo assaggiare il secondo pezzo questa volta è della kinder king al mini dovrebbe uscire una bella sirenetta dall'oceano mi esce questa sirenetta una gran sorpresa sarà sempre con calma buonissima cioccolata sia della lingut che della kinder ferrero cioccolata ecco comunque è bella buonissima cioccolata cioccolata che bella ova fresca e papara ova di papara senti senti e qua devo assaggiare anche questo qua l'altro pezzo due pezzi rullo di tamburi rullo di tamburi e non si apre e ogni anno è questo o è l'uovo che non si apre è la sorpresa mamma mia come ti fa ecco qua mamma la sovetta devo stare attenta a non farmi male come fare ok ecco qua ci sono riuscita com'è bella e com'è bella questa sirenetta e com'è bella questa bella vendemmia la sirenetta è tutta è scardata qua eh ci manca un pezzetto cara Kinder signora Kinder come fa qua devo dire la verità che delusione non solo non solo è uscito che ci manca un pezzetto qua vabbè questa è la sirenetta queste sono le spiegazioni guarda il cavolo te te vabbè comunque sono rimasta contenta perché è uscito un bel bracciale facciamo un bel primo piano facciamo un bel primo piano un primo piano un secondo piano un piano terreno come lo volete così lo facciamo è bello è bello è bello vi saluto e vi auguro una buona Pasqua auguri e figli maschi e pure femmine ciao vado a portare le uova le uova ai tre bambinelli ciao